a tenere banco a piazza pulita di corrado formigli nella puntata in onda sulla 7 giovedì 11 febbraio ecco carlo de benedetti e ora che silvio berlusconi non ha più il consenso e il potere politico di un senso ecco che il livore dell'editore si riversa contro l'osso duro ossia matteo salvini il conduttore interpella l'editore di domani sulle ragioni della genesi del governo dell'ex mister bce e l'ingegnere pontifica io penso innanzitutto che mario draghi sia un risultato della waterloo della politica non è draghi che determina il fallimento della politica è la politica che determina il suo fallimento e draghi è arrivato per quello e però poi de benedetti parte in dribbling si smarca vede il drappo rosso della lega e così aggiunge vorrei però aggiungere una cosa su salvini ha realizzato il più grande flop politico che io ricordi ha preso un partito con una forte base al nord boom così a casaccio tanto che anche formigli fa sommessamente notare che però quando ha preso la lega aveva il 5 per cento ma niente da fare de benedetti prosegue nella sua analisi che flirta da vicino col delirio attenzione lui ha cercato di trasformare la lega in un partito nazionale ed è stato un flop totale ha perso emilia romagna e toscana e le ha perse entrambe dopodiché ha capito che la lega non è un partito nazionale con draghi la sua base elettorale gli ha fatto capire che o cambiava lui o lo mandavano a casa conclude un ragionamento lunare quello di de benedetti in primis perché mai il centrodestra aveva raggranellato tanti consensi in emilia romagna toscana quanti ne ha presi con la leadership di salvini dunque parlare di flop totale nell'aver portato il carroccio dal 5 per cento ad essere il primo partito d'italia è una presa di posizione che non merita neppure un commento infine la sparata lo mandavano a casa ma chi insomma un de benedetti completamente fuori fuoco dimostrazione lampante che ora per lui l'uomo da battere salvini nel corso del suo intervento de benedetti ovviamente si spende nell'elogio sperticato di draghi è prudente ma quando parte su una cosa la fa con un'audacia non comune quindi ho la massima stima di draghi e ancora lo conosco molto bene da tanti anni è un amico e una persona che stimo molto molti hanno trovato bizzarro che potesse essere impiegato in una funzione politica ma draghi chi è un politico conclude solenne de benedetti